Da sette giorni è iniziato il raduno della SEAP Pallavolo Aragona neopromossa nel campionato di serie B2. La squadra si allena due volte al giorno, pesi, tecnica, tattica, ma anche piscina. Eccole in acqua le ragazze della SEAP Aragona per un intenso allenamento agli ordini della preparatrice e compagna di squadra Maria Valente. Le atlete, dopo il riscaldamento a Bordovasca, sono entrate per allenare il salto, prevenzione arti superiori e potenziamento muscolare. Tanti gli esercizi a corpo libero sotto lo sguardo attento dell'allenatore Francesco Eliseo, che si ritiene soddisfatto della prima settimana di lavoro. La squadra si ferma per il weekend e tornerà ad allenarsi lunedì, ancora con due sedute al giorno. Tutti i pomeriggi, dalle 18 alle 20, la SEAP Aragona si allena al Palasporto e Pippo Nicosia di Agrigento. La struttura sportiva sarà inaugurata ufficialmente sabato 1 settembre alle ore 18. A seguire, con inizio alle ore 19, è prevista la gara amichevole contro la Sigil Marsala di Serie A2. Grazie a tutti. Grazie a tutti.